Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questo momento è un nuovo video dove rispondere alle vostre domande Mi avete fatto tantissime domande quindi grazie continuate così a farmi tante domande Comunque questo deve essere il mio ultimo video prima di vlog ma non vi preoccupate che i filo risponde e continueranno ad uscire La prima domanda di oggi ce la fa Marco Girondelli che ci chiede che squadra tifo in calcio Per filo e per segno ci chiede dove andremo in vacanza Ciao per filo e per segno andrò a Porto Santo Stefano provincia di Grosseto dovrebbe essere E quanto ci mettete a editare video? Allora playstation ci metto poco 10 minuti Per fare stifo risponde ci metto tipo 21 ora per fare il grafico e 5 minuti per registrare Luca De Pro ci chiede ha mai fatto video in altri canali? Sì sì quale? Ho fatto il mio primo video in assoluto è di GamePro è sul canale di GamePro Poi ne ho fatto anche uno due anni fa e poi se mettete 10 like vi racconto la storia Una bella persona ci chiede di tutta la pagella Non me la ricordo tutta vi dico dove sono andato meglio perché non me la ricordo tutta Non ce l'ho qua davanti Ho preso 9 in musica dovrei non so come Poi 9 in motoria in comportamento 9 Quale sport fai? Credo sia sport perché sport pubblicitario non li faccio Vabbè faccio solo calcio Resux ci chiede quando farei i vlog farai anche challenge? I vlog li faccio cioè dovrei registrare fare un vlog in teoria domani Sì le challenge sì le farò Solo che non dentro i vlog Poi le farò anche con Slime.it da 13 Mattia Bonanza ci chiede chi partecipa alle serie con gli iscritti Scusate il rumore in sottofondo comunque Alla serie con gli iscritti parteciperanno gli iscritti più attivi di quella settimana E poi le sceglierò io insieme a Matteo Credo E poi ora ci stanno le domande in no sense di oggi E che ce la fa Flavia Salatina Lo youtuber dei poveri perché io sono una youtuber dei poveri Ho... TVB Mi... Tu... Vabbè è questa E poi ci sta anche la prima ed ultima domanda che mi hanno fatto su Instagram E ce la fa la con Mari Vittoria Ciao a tutti Ciao a tutti anche a lei E vabbè ragazzi Questo mio ultimo video Anche se poi non è un ultimo video finisce qua I gameplay non li porterò più Comunque Filo risponde li riporterò Porterò tutte le serie Cioè porterò anche i vlog Delle challenge Poi state attenti anche sul canale di... Sì sul canale Sulla page di Slime.it da 13 Che dovrò registrare qualcosa anche là Sì spero E comunque sì Seguitemi su Instagram e su musical.ly E anche Slime.it da 13 Se volete seguite il mio privato Andre Filoco E niente ragazzi Il seguito è finito e ciao gente Ciao a tutti i ragazzi